Ciao ragazzi, sono io, Adriano, il vostro naturalista, e qui ho un piccolo amico, più mato, e un parrocchetto, il signore che lo aveva me l'ha fatto prendere, e io ho chiesto il permesso e chiedo proprio che sia così. I parrocchetti sono uccelli davvero affascinanti, anzi, si sono adattati alle tether di Roma, ma migrando e facendo vittime sui albi nei parchi, e questo piccoletto ha deciso di soprannominare lo smeraglino, piccoletto di un parrocchetto, oh grazie.